Massimo Robottini, esperto che collabora con il comune di Pescara, tenete sotto d'occhio la riserva d'Annunziana anche dopo l'incendio, la facevate già prima e purtroppo ci sono delle piante da abbattere. Sì, purtroppo sì, noi già dal 2 siamo entrati in campo per cercare di salvaguardare il salvabile, nel senso che tutte le piante che sono state ritenute che potessero avere anche una piccola chance di vita le abbiamo tenute in piedi. Le altre purtroppo che erano bruciate, avevano condizioni di instabilità precarie, abbiamo deciso di farle abbattere. Questo è un lavoro che comunque col comune di Pescara inizia anche prima dell'incendio, già eravate sul posto per tutelare queste piante? Sì, l'incarico è già da dicembre dell'anno scorso, noi tenevamo sotto controllo già tutta la pineta, avevamo già fatto 400 valutazioni, 400 monitoraggi sulle piante che purtroppo abbiamo dovuto riprogrammare, rifare e rimodulare. Anche a seguito dell'incendio, quanti saranno le piante, il numero che andranno abbattute e quale quelle che potranno essere tenute in piedi? Diciamo che ad oggi siamo a circa 190 piante da abbattere, comprese quelle che già sono state fatte per il ripristino della viabilità e circa 220-230 per la mitigazione del rischio, quindi potatura. Abbiamo dovuto abbattere alcune piante che non potevano essere salvate, ma il lavoro continua per cercare di salvarne il più possibile. Poi passeremo, ma da subito, alla fase del ragionamento sulla ricostruzione. Io a brevissimo convocherò degli esperti in materia per poter ragionare con loro e creare anche un gruppo di lavoro sul futuro della pineta, sulla ricostruzione della pineta, sulla rinascita della pineta, perché una cosa è certa, la nostra pineta dovrà rinascere ed eventualmente anche essere ampliata, perché questo è l'obiettivo dell'amministrazione, il mio personale e credo di tutti i cittadini di Pescara. Dal vostro punto di vista, quale sarà il futuro della riserva? Beh, questo non sta a me dirlo, sicuramente il corso è la natura che farà il suo corso e detterà le leggi delle piante che potranno poi sopravvivere.